Prepariamo insieme le zucchine alla poverella, un piatto tipico della tradizione contadina pugliese. Volete vedere come si preparano? Esce manen! Innanzitutto prendiamo le zucchine, le laviamo e le asciughiamo. Tagliamo le zucchine a rondelle, non troppo sottili. Così. Disponiamo le zucchine su un telaio con rete alimentare, oppure su una spianatoia in legno o in vimini. Così, una accanto all'altra. Vi consiglio di utilizzare delle zucchine piuttosto grandi. Ed eccole qui, disposte sul telaio. Quindi adesso trasferiamo il telaio sul balcone o in giardino e le esponiamo al sole. Dovranno disidratarsi, quindi asciugarsi e perdere parte della loro acqua. Per quanto tempo, chi lo può sapere, dipende dall'intensità del sole. Dovranno asciugarsi e diventare così. Come vedete, si sono rimpicciolite. Dovranno risultare così. Asciutte e disidratate. Quindi, ecco le nostre zucchine e adesso andiamo a friggere. Il segreto per una zucchina alla poverella ben cotta, asciutta e croccante e non bruciacchiata, sta nella cottura. Si frigge partendo da olio quasi freddo. In questo modo, il calore avrà il tempo di preentrare all'interno delle zucchine, che è disidratata e asciutta, non assorbirà assolutamente olio, rimanendo croccante e più a lungo. Quindi, mescolate di tanto in tanto, fino a quando la zucchina non risulterà dorata. Così. Ecco. Quindi, a questo punto, le zucchine sono ben fritte, dorate, le alziamo e le trasferiamo direttamente nel piatto di portata. Naturalmente, io ho usato olio extravergine di oliva per la frittura. Quindi, una volta alzate le zucchine, le possiamo condire con sale, aglio a fette e abbondante menta. E alla fine, aceto. Mescoliamo e continuiamo a friggere. Perfette per accompagnare secondi di carne, pesce, salumi, oppure per farcire i panini, c'è una controindicazione. Le zucchine e la poverella non basteranno mai. Quindi, una volta pronte tutte le zucchine, io faccio come faceva nonna Maria. Prendo due o tre cucchiai di olio della frittura e vado a condire le zucchine. Quest'olio sarà pregno di sapore di zucchina e quindi le zucchine saranno buonissime. Quindi, condiamo con l'olio. Se volete potete utilizzare dell'olio fresco. aggiungete ancora l'olio menta e mescolate. A questo punto, coprite e lasciate riposare mezz'ora affinché le zucchine si insaporiscano. Ed eccole qui, pronte in tutto il loro splendore. Le zucchine alla poverella. Grazie per aver seguito questa video ricetta. Ciao! Ciao!